Le anticipazioni sulla SOP spagnola ci rivelano che nelle puntate spagnole Rita non riuscirà a sopravvivere all'epidemia che ha colpito Cacias 38, la febbre timodea. La donna infatti dopo un lungo periodo di sofferenza non resisterà e morirà a causa della malattia. Prima di farlo decide di non voler morire con dei rimorsi e confessa a Germán che sua moglie Cayetana è la responsabile della morte di Carlota. La donna prima di morire confesserà in maniera non molto chiara che è stata lei la responsabile del furto della medaglietta d'innocencia. Germán, dopo aver ascoltato la confessione di Rita in punto di morte, in preda alla rabbia deciderà di andare subito da Cayetana. I due si scontreranno in maniera molto dura e Germán inizierà anche a lanciare oggetti nella casa. Le grida inizieranno a sentirsi in tutto il palazzo, infatti molti coinquilini inizieranno a preoccuparsi. La situazione degenererà e Cayetana sarà ritrovata in fin di vita da Ursula. Riuscirà a sopravvivere? Sarà stato suo marito a ridurla così?